Cato verde, solo verde, taglia taglio verde Edoardo Barbera, Globus Television, il Catania ha iniziato benissimo il secondo tempo però poi dopo il gol segnato, anzi verso il quarto d'ora della ripresa c'è stato forse un calo di concentrazione, qualche errore anche grossolano tra attacco e centro campo? Dobbiamo migliorare la gestione della palla, questa vittoria per noi è fondamentale anche sul piano della mentalità, della testa, della tranquillità perché vincere oggi dopo una settimana di nuovo di un po' di turbolenza era importante dobbiamo sicuramente con il mister, lo faremo in settimana, migliorare quegli aspetti dove ancora siamo un pochino più indietro però ho detto io guarda veramente darei tutto quello che ho per vincere le partite giocando male cioè sì, è vero, il mister ci chiede sempre il bel gioco però siamo anche in Serie C, le partite si vincono anche giocando male quindi dobbiamo subito capire se una partita è di quelle brutte, di quelle toste e cercare di sfruttare e essere cinici le occasioni che abbiamo perché le abbiamo nelle occasioni Ado Barbera, Globus Television, i cambi verso il quarantesimo sono stati per dare una scossa alla squadra? Ma più che scossa anche perché già mi aveva preso una botta e poi il paccio zoppicava e Barzic stava facendo un pochino però sono giocatori che dobbiamo tenere sempre in considerazione visto che giochiamo ogni tre giorni, la prossima settimana e quindi ho voluto anche dare un po' di un turno di riposo anche a Di Piazza che in settimana ho avuto qualche problemino E adesso in trasferta il Catania come andrà a Vibo? Incontriamo una squadra anche arrabbiata visto che ha preso 6 gol oggi quindi è una partita dedicata dobbiamo innanzitutto rivederci la partita nostra per migliorare e poi cercare di dare qualcosa in più oggi la squadra alla fine ha lottato ha giocato poco ma ha lottato e questo è un buon segno se andiamo a Vibo con uno spirito diverso penso che possiamo portare i primi tre punti a casa Edoardo Barbera, Globus Television, dal tuo punto di vista che la vedi da un'altra prospettiva secondo te su cosa si deve lavorare maggiormente in difesa? Bisogna cambiare il portiere No, non intendevo questo L'amico di Globus che mi voleva far fuori no, onestamente si parla di fase difensiva ho detto stiamo faticando un pochino troppo più del previsto stiamo lavorando su quello nessuno ci può dire il contrario dobbiamo trovare una soluzione oggi abbiamo vinto, non abbiamo preso gol che sia un segnale venivamo da due sconfitte consecutive insomma, ripartiamo da qui oggi ripartiamo da qui oggi Go!